Quando installata in ambienti pubblici, AV-Link Pro AC offre notevoli vantaggi. La robusta struttura modulare la rende facile da scalare e configurare, per soddisfare diverse esigenze e richieste di ricarica. La struttura opzionale Pro AC Metal garantisce un'ulteriore protezione contro gli atti vandalici. La realizzazione All-in-One consente di proteggere i punti di ricarica con due prese, installando due protezioni nella base e alimentando da monte con un singolo cavo elettrico. Le protezioni elettriche integrate facilitano la manutenzione e riducono i costi operativi del terminale di ricarica. AV-Link Pro AC è compatibile con i software dei principali operatori di stazioni di ricarica sul mercato, garantendo una gestione senza problemi dell'infrastruttura elettrica EV. Sfruttando la digitalizzazione, AV-Link Pro AC si collega ai sistemi di gestione degli edifici. o a Micro Grid Advisors, consentendo ai facility manager di prevedere e ottimizzare consumo, produzione, conservazione o vendita di servizi. Per le società e per coloro che ricaricano i veicoli elettrici presso i punti di ricarica, una fatturazione precisa è molto importante. Il viaggio verso un mondo interamente elettrico e digitale è già iniziato e la strada è costellata di veicoli elettrici. Per supportarli, l'infrastruttura deve crescere, adattarsi ed essere pronta. È ora disponibile la terza generazione di stazioni di ricarica AV-Link Pro AC. Affidabile, versatile e progettata pensando alla sostenibilità, è qui per ricaricare al massimo il futuro della e-mobility.